Fantozzi aveva un programma formidabile, colze, mutande, vestagione di flanella, tavolimento di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di Peruni gelata, tifo indievolato e rutto libero. E' il 16 aprile del 2000, a Renato Curi di Perugia i padroni di casa affrontano il Piacenza fanellino di coda destinato alla retrocessione. Ad affrontarsi, frattanto, due futuri campioni del mondo come Alberto Gilardino, agli esordi con la casacca degli Emiliani, e Marco Materazzi. La rete di quest'ultimo sta decidendo l'incontro, quando al 37esimo gli ospiti rimangono in dieci uomini. Un'icona del calcio italiano dice qualche parola di troppo all'arbitro Stefano Farina e viene espulso. Almeno così supponiamo, almeno così suppone Gianni Bezzi. Un Vierkowod che nella sua arriera è stato sempre un giocatore davvero corretto, ha compiuto 41 anni pochi giorni fa, ma un leone ferito che sapeva ormai della Serie B evidentemente oggi ha perso un po' il controllo. Finisce così, a 41 anni compiuti da dieci giorni, l'immensa carriera di Pietro Vierkowod. Arcigno difensore nato nell'aprile del 1958 nel Bergamasco da un ex soldato dell'Armata Rossa, rimasto in Italia per scelta dopo essere stato prigioniero di guerra durante il secondo conflitto mondiale. Io ho 13 anni, mentre Vierkowod dà l'età dei miei genitori, e il suo ritiro mi appare come un avvenimento epocale, mentre leggendaria mi era parsa l'impresa di aver giocato fino ad età così avanzata. Oggi, che a mia volta mi avvicino a grandi falcate a quell'età, non vedo con uguale simpatia la presenza di quarantenni o poco più, in Serie A o giù di lì. Sarà il mio corpo che cambia nella forma o nel colore. Sarà che il calcio moderno mi fa schifo, mentre quello dei 90 mi regala nostalgie quasi bumerecce. Sarà che quando mi trovo a fare parti sotto cassa mi rendo conto che, come Gigliola Cinquetti ma al contrario, non c'ho l'età. Ma mi sembrano semplicemente patetici tentativi di provare a beffare il tempo che avanza. Ma il tempo non si beffa. Ad ogni modo, non divaghiamo e torniamo a Vierkowod, noto anche come lo zar per le sue origini, che in realtà sono ucraine. Attribuirgli oggi l'appellativo autocratico per eccellenza farebbe storcere il naso. Dopo gli esordi nella metà degli anni 70 tra i dilettanti con la casacca della Romanese, Pietro passa al Como e con la casacca dei Lariani cresce fino ad ottenere la Serie A nella stagione 1980-81. Nell'estate del 1981 l'allora presidente della Salvadoria Paolo Mantovani, colpito da questo difensore arcigno e, cresciuto a pane da atletica leggera, velocissimo, lo acquista e lo prende in prestito a Firenze. Con la casacca della Fiorentina l'allora 22enne Pietro è protagonista assoluto e sfiora uno storico scudetto. La squadra allenata da Giancarlo Desisti lotta fino alla fine per il titolo, ma da avere la meglio è la Juventus. All'ultima giornata i Viola pareggiano contro il Cagliari e vedono annullato un gol a Ciccio Graziani, mentre i Bianconeri spugnano Catanzaro con un gol sul rigore di Bredi. Per la squadra di Terrapattoni è lo scudetto della seconda stella. Per la Fiorentina un enorme rimpianto è l'inizio della forte rivalità contro la squadra primontese. L'anno seguente viene mandato di nuovo in prestito, ma alla Roma, e vince, stavolta sì, il Tricolore. Il secondo scudetto per i giallorossi è Pietro e titolarissimo di quella squadra, con 30 presenze in 30 gare. Con l'esperienza capitolina termina il suo periodo di apprendistato. Mantovani lo vuole a Genova e lo convince, nonostante le sue remore. Dopo lo scudetto vinto con la Roma nell'82, non volevo lasciare la capitale. Dirà poi Pierre Cud. Il clima e l'ambiente mi piacevano. C'era allegria e due grandi campioni come Cereso e Falcao. Il presidente della Sampdoria mi voleva a tutti i costi. Io avrei preferito rimanere a Roma. Per un mese la cosa si trascinò tra manumori e dissapori, poi decisi di tornare a Genova. E mi accorsi quanto fu importante per giocatori come me, Vialli e Mancini, un uomo con il suo carisma e la sua personalità. Ci considerava suoi figliocci e noi avevamo stima di lui. Alla Sampdoria abbiamo vinto tanto e ci siamo divertiti molto. Avremmo potuto vincere di più. In 12 anni in blu cerchiato vince tanto, tantissimo. Uno scudetto, quattro coppie Italia, una coppa delle coppe e nel 1992 vede la coppa dei campioni sfuggirgli davanti ai supplementari contro il Barcellona. Vincerà la coppa delle grandi orecchie nella stagione 1995-96, nell'unica stagione disputata con la casacca della Juventus. Poi, per lo zar, una stagione a Milano e tre a Piacenza, il Piacenza tutto italiano, fino al ritiro. Terminerà la carriera avendo vinto tutto, compresi il mondiale del 1982, dove non fu mai impiegato, complice un'infortuna al ginocchio. Un piccolo rimpianto, forse, non aver partecipato al mondiale del 1994, dove avrebbe dovuto fare da riserva Franco Baresi, che negli Stati Uniti, ricordiamo, si infortuna al ginocchio. Ma cosa sarà mai un rimpianto dinanzi ad una carriera costellata da trionfi, per altre città non troppo abituate a vincere come Roma, Genova e Torino nella massima competizione europea?